Migranti, 100 soccorsi dalla guardia costiera nella Locride. Erano a bordo di un vecchio peschereccio con i motori in avaria, a circa 40 miglia dalla costa della Locride. Arrestato il sindaco di Trebisaccia Francesco Mundo, accusato di irregolarità nella raccolta firme per la presentazione della lista Io resto in Calabria, nella quale era candidato al Consiglio regionale in occasione delle elezioni del 2020. Sono strafelice del contributo che Nino Spirli e la Lega stanno dando qui per il futuro dei calabresi, lo ha detto Matteo Salvini in visita in Calabria per partecipare all'iniziativa della Lega. Covid-19, in Calabria 13 positive e due vittime nelle ultime 24 ore, tasso di positività all'1,22%. Cento. 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 Cento.